Ciao ragazze, oggi vi parlerò di come edito le mie foto per Instagram tante di voi quando ho pubblicato le ultime foto mi hanno chiesto come ho realizzato queste foto perché comunque i colori del trucco si vedono meglio, qualche effetto carino, le sfumature eccetera eccetera quindi ho deciso di farvi un video anche perché ho davvero tantissimi programmi di editing sul mio cellulare per quanto riguarda le foto anche perché si può dire che principalmente i miei social adesso sono Facebook e Instagram cioè io ogni giorno pubblico qualcosa lì e nulla, vi faccio vedere insomma come edito le mie foto, i programmi che utilizzo eccetera eccetera anche perché comunque utilizzando vari prodotti eccetera eccetera dato che taggo anche le aziende comunque voglio avere un aspetto perfetto anche perché si spera sempre in una condivisione perché fa sempre insomma piacere e nulla, vi lascio al video dei programmini che utilizzo e ci vediamo prestissimo in un prossimo video un bacione ragazzi questo è il mio iPhone qui c'ho tutti i programmi, vedete in fotografia se metto a fuoco tutti i programmi che utilizzo per le foto in particolare ultimamente sto utilizzando T-Pick per tutte le scritte carine che vedete ultimamente Squaredy per ridimensionare insomma le mie foto il formato eccetera eccetera utilizzo anche la in camera perché ha qualche effetto carino e poi sto utilizzando moltissimo Facetune che ho acquistato sull'Apple Store e Rilook, questa qui invece è un'app gratuita vado su Facetune e adesso ad esempio questa c'è la mia ultima foto eh, secondo solo adesso vado a apri una foto rullino foto praticamente vabbè scusate qua ci sta la vincitrice del giveaway di Instagram che ho fatto la foto di random prendo questa che ancora non ho editato e la vado a caricare ok questa è la foto non editata ad esempio qui trovate poi tutti i vari effetti ci sta ritaglia, sbianca, leviga, dettagli, rimodella eccetera eccetera io utilizzo leviga per avere una pelle diciamo perfetta e basta che faccio così sulla foto e me la modifica adesso se riesco allora qua dovrebbe far vedere la foto ecco questa è come era prima e questa è l'erigato non so se si nota la differenza come era prima e questo è l'erigato poi un'altra cosa che utilizzo per far vedere meglio allora confermiamo che sopra c'è una spunta per confermare poi un'altra cosa per far vedere meglio gli occhi quindi il trucco e le dettagli e come si utilizza questo effetto se mette a fuoco magari ecco qua vado a a zoomare la foto e vado a fare semplicemente così vedete che l'occhio è più nitido rispetto a prima e anche da quest'altra parte vedete poi utilizzo anche per le labbra e questo è il risultato finale poi cos'altro utilizzo di questo coso ci stanno i filtri qui ci sono vabbè i vari i vari filtri vedete e poi c'è la luce che voi potete anche diciamo regolare solitamente io utilizzo questa che è un'illumina una luce bianca e qua potete regolare la seconda insomma della necessità ad esempio metto la 15 e questo è il il risultato vedete e la confermo e là per salvarle basta salva nel rullino foto questa app se non erro costa mi pare 2,99 euro sull'apple store poi vado indietro e poi c'è relook che qui praticamente questa ad esempio l'ho fatta con relook l'ho pubblicata sul gruppo mac mi sono modificata come Kylie Jenner per per scherzo ovviamente qui ci stanno sempre i soliti effetti nitidizza i denti bianchi levica eccetera eccetera quest'app che vi sto facendo vedere se riesco è a pagamento è gratuita invece poi ci stanno le varie cose per muovere la foto vabbè poi ci stanno labbra ombretto pelle ci sta questo effetto glitter che è molto carino che praticamente si applica allargando la foto e mettendo i glitter vedete per cancellare basta andare sulla freccia e vi toglie l'effetto è tipo una specie di photoshop diciamo per per iphone io faccio vedere sempre io vedo io il contrasto che guardo nel cosa faccio vedere sempre i programmi per iphone poi ci sta satura schiarisci e scurisci che praticamente vi fate una specie di contouring e l'effetto è proprio quello che vedete in foto ovviamente questo è enfatizzato perché Kylie Jenner spesso e volentieri la vediamo conciata in queste condizioni e insomma questo è relook un'altra app a pagamento mi pare 1,99 euro per le scrittine carine che mi vedete ultimamente è tipic e praticamente qui avete vari font ad esempio non so come farvela vedere vabbè prendiamo questa a caso proprio qua è la cosa originale comunque per andare avanti qua avete tutti i vari filtri eccetera eccetera la regolazione della della foto della luce la saturazione i contrasti esposizione eccetera eccetera avete altri effetti molto carini la regolazione viene basta pigiare qui è 100 o è 50 poi qui ci sono tutti i caratteri trovare tutti i vari i vari caratteri disponibili per le foto vedete poi qui il colore potete scegliere del testo qui ci stanno tutti i disegnini carini alcuni li dovete scaricare stando 99 centesimi altri disegnini comunque ce ne sono davvero tantissimi ce ne sono davvero tanti questo cos'è ah qui ad esempio sono altri che dovete pagare e questi altri qui praticamente costano 99 centesimi e questo è quanto ragazze qui poi salvate insomma la vostra foto oppure potete condividerla direttamente sui vari social e nulla spero che questo video vi è stato utile per capire come modifico le foto i vari effetti eccetera eccetera poi ovviamente utilizzo anche altri programmini che vi ho fatto vedere ad esempio per i collage utilizzo questo qui che è Moldiv ed è un'app gratuita molto carina e nulla vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao